Alcune semplici raccomandazioni per contenere il contagio da coronavirus. Lavati spesso le mani con acqua e sapone. Menta un gel a base al tonico. Evita i contatti ravvicinati e mantieni la distanza di almeno un metro. Evita luoghi affollati. Non toccarti occhi, naso e tacca con le mani. Evita le strette di mano e gli abbracci. Copri bocca e naso e tacca con le mani. Quando salutisci e tossisci. Se hai sento di simile all'ingioanza resta a casa. Resta a casa. Resta a casa.